Comincia l'avventura di Starting Six, la nuova vetrina sulla pallavolo italiana di club e nazionale, figlia dell'accordo tra Feder Pallavolo, Leghe Maschile e Femminile e Sport Network. Vi accompagneremo per i prossimi mesi sui portali web di Corriere dello Sport e Tutto Sport, mentre per tutti gli altri approfondimenti ci potrete trovare sulle pagine dei due quotidiani del gruppo Amodei. Il nostro focus è sulla prossima giornata di campionato, ma inevitabilmente la regular season si intreccia con la settimana appena vissuta di Coppe Europee e per parlare di tutto ciò abbiamo con noi il nostro Pasquale Di Santillo. Ciao Pasquale! Ciao Eleonora! Pasquale, mancano solo cinque turni prima di entrare in zona playoff, ma quello che è successo in Europa assolutamente merita una sottolineatura particolare. Da dove vogliamo cominciare? Direi di dare la precedenza all'orizzonte internazionale, perché il secondo trionfo di Novario in Europa, la prima di Bernardi d'allenatore sulla banchina femminile con la conquista della Challenge Cup a Nantes dopo la Champions del 2019, infatti davvero da applausi, come del resto lo è lo splendido cammino di Chieri arrivato in finale nella Chef Volley Cup. Senza dimenticare ovviamente la doppia netta, entusiasmente, affermazione di Champions League da parte di Conegliano e Milano, che si sono guadagnate la semifinale sul campo, e per poco non arrivava anche il filotto con la vittoria di Scandicci, che è veramente sfiorato il successo con l'exercice basi. Riduffandoci invece del campionato a cinque turni dal time della regular season, la volata per i playoff è decisamente avviata, cominciata, con Conegliano saldamente in testa al campionato che oggi gioca il primo dei due anticipi a Casal Maggiore, l'altro anticipo è quello fra Bergamo e Pinerolo. Molto più combattuta la lotta per il secondo posto che vedelizza Milano, Novara e Scandicci. Milano domani ospita una scatenata a Roma, mentre Novara va a giocare a Firenze e Scandicci cercherà di reagire alla sconfitta di Champions League sul difficile campo di Chieri. Per quanto riguarda invece la lotta al settimo posto, Vallefoglia cercherà di sfruttare il turno difficile che attende Roma, cercando di superare la restenza di Trento, mentre poi la giornata ovviamente verrà conclusa dall'ultima partita che è Cuno Bussartizio. Per una volta andiamo controcorrente, con una provocazione, perché il personaggio che abbiamo scelto per questa sezione non è una giovane di belle speranze, anzi non è proprio una donna, è un uomo, un allenatore. Parliamo di Lorenzo Bernardi, tecnico di Novara, che alla prima esperienza su una panchina femminile riesce a centrare un trofeo europeo. Il primo è un assoluto come allenatore e continua ad emozionare e anche ad emozionarsi, come quando da giocatore vinceva tutto il vincibile, Olimpiadi a parte, e come ha fatto anche in questi anni in cui ha allenato team e nazionali maschili. Un bel viatico per la sua esperienza all'interno della nazionale femminile, con accanto Giulio Velasco e Massimo Barbolini. I social, lo sappiamo tutti, sono l'universo giovanile più frequentato. E la palla a volo femminile non scherza, infatto, di visualizzazioni. Indovinate un po' che cosa si sono inventati Lega e Società. Ormai è diventato un must, se non proprio una tendenza, perché quando si tratta di costruire sfide virali, nessuno si tira indietro. Il grande successo della Bagger Challenge sbarca anche su Starting Six, con la prova effettuata da Chieri. Con una partecipazione compatta di tutta la squadra, staff compreso, con esiti davvero imprevedibili, come potete verificare da queste immagini. La Superliga, credo e manca, è arrivata all'ultimo turno della regular season, con qualche verdetto già emesso e qualcuno invece ancora da definire prima del vortice dei play-off. E per parlare di tutto questo abbiamo in collegamento con noi il nostro Pasquale Di Santillo. Ciao Pasquale! Ciao l'onora! Pasquale, cosa dobbiamo aspettarci da queste ultime sei gare della regular season della Superliga? Diciamo subito che è bello vedere come, dopo 21 giornate, la Superliga, credo in banca maschile, tenga i giochi quasi tutti aperti. Perché, alla fine degli conti, al momento abbiamo di certo la prima posizione di Trento, la seconda di Perugia e l'ottava di Modena, che infatti incontrerà Trento nel quarto di finale. Ma dalla terza piazza alla settima piazza è ancora tutto possibile, può succedere davvero di tutto. E non è scuso che l'esito delle sfide di Champions di questa settimana, con l'eliminazione di Piacenza e la qualificazione in semifinale di Civitanova e Trento, oltre ovviamente senza dimenticare la sconfitta di Monza nella finale di Challenge Cup, possa un po' condizionare l'esito di questa volata finale. Di certo la partita chiave è quella fra Verona e Civitanova, con i veneti che hanno la possibilità di superare i marchigiani nella corsa al quarto posto, alla segua di Monza e Milano. Sì, perché Verona, Monza e Milano sono tutti e tre a pari punti a una sola lunghezza da Civitanova. E Monza e Milano ricevono Cisterna e Perugia. Certo è che se la squadra di Anastasio e se Piacenza però riesce a cancellare, a risettare la delusione di Champions velocemente, può respingere al mittente tutte le pretendenti. Chiudono il programma Trento-Padova e Catania-Taranto perché ci dobbiamo preparare alla volata dei play-off. Il campionato della Superlega sta contribuendo a far emergere talenti giovani capaci di mettersi in evidenza anche all'interno di un campionato competitivo come il nostro. È il caso di No Mori Keita, opposto di Verona, nato a Bamako, Mali, il 26 giugno del 2001, che dopo due stagioni nella Superliga Serba e una in Corea del Sud con il KB Insura Star, dove ha firmato un record di 57 punti in una sola partita, ora sta facendo faville anche a Verona. Nonostante occupi solo la 54esima posizione tra i top scorer della Superlega, come media punti set giocati sale addirittura al quarto posto davanti al compagno di squadra Mok Rozzic, anche lui di 22 anni che nella classifica generale, a sua volta, occupa il quinto posto. In un mondo che vive di immagini non potevamo trascurare la bellezza di alcune azioni della Superlega Crede in Banca, che ci auguriamo diventino virali anche sui social. Il nostro contributo di questa settimana comincia dalle migliori giocate della decima e penultima giornata di ritorno. Davanti a tutti il super muro di Simon, che ferma l'attacco in pipe di Bottolo, a seguire l'altro muro di Sanguinetti su Bucegger. Poi passiamo al lungo scambio in Perugia-Itas-Trentino, chiuso da un muro di Russo su Podrascanin. A seguire il cambio palla di Falaschi, che chiude di seconda intenzione in Padova-Monze, e infine la giocata da favola di Gutierrez di Taranto, con l'attacco in posto 4, che diventa un bilanciere con salto quasi a 360 gradi. Domenica sera avremo la griglia completa del tabellone dei play-off 2023-2024, quindi cominceremo a declinare il tutto in prospettiva Scudetto. Per oggi, da Starting Six è tutto, mi raccomando, continuate a seguirci e alla prossima!